Si presenta il Pisa con azione immediata, vedete che cercano di stringersi i catanesi, Kieft colpisce il palo. Ecco l'azione del gol, questo è Scarnecchia, Bergren si libera e segna. Adesso vedremo l'altro gol del Pisa, ancora Scarnecchia su pulizione, respinge Sorrentino, Giovannelli, la palla va a Kieft, si gira ed è la seconda rete.